Ragazzuoli, ciao a tutti, finalmente domani torna la Juve dopo due settimane e la cosa bella è che quattomeno fino a Natale non avremo altri pensieri se non la Juve, la Juve, intanto c'è che dobbiamo stare a casa, nel senso quattomeno stiamo a casa sapendo che ogni due o tre giorni vedremo la Juventus ed è una cosa semplicemente meravigliosa, infatti è proprio per questo che vi invito a scaricare OneFootball per tutto ciò che riguarda il mondo della Juventus perché insomma ci sarà parecchio da divertirsi da qui a Natale e come sempre ragazzuoli quando ve lo dico lo fate iscrivetevi al canale lasciate un mi piace sempre per sostenermi perché alla fine per voi è un click per me è una roba molto importante quindi se vi va se vi fa piacere poi anche certamente lasciate un mi piace e ci abbracciamo forte virtualmente mentre invece passando a ciò che sono i nostri discorsi come sicuramente avrete letto qualche giorno fa non si è potuta giocare la partita valida per la Nation League tra Romania e Norvegia perché le autorità norvegesi hanno impedito alla nazionale di partire sempre per motivi legati al covid ed ovviamente dato che ormai è da qualche mese da un paio di mesi da un mese e mezzo che i giornalisti imparziali per eccellenza hanno un chiodo fisso la partita rinviata tra Juventus e Napoli una volta venuti a sapere che la UEFA stava pensando di riprogrammare il match di rimandare il match a data da destinarsi ovviamente loro si sono fatti di sentire con una certa autorevolezza diciamo così perché tanto li conosciamo hanno voluto far sapere al mondo com'è la reale situazione hanno voluto far sapere che la UEFA volendo le partite le può anche posticipare non è che se c'è il covid qua e là in giro per il mondo un po' e così la squadra che non si presenta deve necessariamente perdere a tavolino infatti quando è riuscita la notizia iniziale e quanto meno della UEFA loro subito ovviamente facendo riferimento ad una partita nello specifico e possiamo partire proprio con tutta tranquillità dal nostro Mauri del cuore Romania Norvegia è stata annullata per un caso covid che cosa succede adesso partita persa 3 a 0 più un punto di penalizzazione che per l'UEFA o si rigiocherà e dato che spesso e volentieri c'è un qualcosa che va a coppie adesso non mi ricordo bene che cosa sono che vanno a coppie se parla Pistocchi è ovvio che poi deve parlare in un qualche modo anche Paolone Ziliani Romania Norvegia annullata dopo che il ministero della salute norvegese ha ordinato alla federazione di non partire causa pericolo di contagio però appunto ministero della salute norvegese ecco non è proprio la ASL di Oslo ecco e scusatemi anche il gioco di parole è una roba un pochino diversa però comunque andiamo avanti giustamente la Norvegia avrà partita persa come il Napoli o si recupererà facciamo sapere alla FIGC che attendiamo curiosi e vigili fai il retweet e io mi auguro che l'abbiate fatto anche voi perché giustamente tutti eravamo particolarmente curiosi e vigili poi però se non sbaglio dopo l'esito definitivo si sono espressi in pochi di magari sono stati vigili ma non troppo ecco e comunque scusatemi c'è Pistocchi c'è Ziliani che cos'è nella mischia non vuoi anche mettere il vice direttore di Ray Sport ovviamente super partes e che parla sempre con quell'alone di imparzialità e lui è stato ovviamente anche superiore agli altri anche perché insomma vice direttore di Ray Sport appunto devi parlare sempre anche con una certa autorevolezza più degli altri con una certa imponenza e infatti è giusto dire e ribadire che il caso Romania-Norvegia partita di Nation League annullata perché le autorità sanitarie norvegesi hanno vietato la partenza della nazionale scandinava a causa Covid mette in discussione i vari protocolli vedremo cosa deciderà in proposito la UEFA e come ultimo ma ovviamente non meno importante ci mancherebbe altro Pistocchi, Ziliani, Variale e ovviamente Tancredone Palmeri Romania-Norvegia cancellata dopo che le autorità norvegesi hanno proibito alla Norvegia di volare causa riscontro di un caso di coronavirus in squadra l'UEFA adesso proverà a riprogrammare la partita se non sarà possibile darà 3-0 alla Romania Juventus-Napoli invece Juventus-Napoli invece 3-0 a tavolino i motivi sono anche conosciuti ormai è quasi da un mese e mezzo che se ne parla però alla fine chi vuole intendere intenda e tutti gli altri in camper loro ne hanno noleggiato anche uno per diverso tempo e probabilmente il camper se lo fotteranno proprio perché di intendere non ne hanno molta di voglia ma va benissimo così e appunto hanno provato a cercare di vedere se così si poteva riprogrammare in un qualche modo questa benedetta partita infatti per un paio di giorni tutti lì loro speranzosi ecco così finalmente abbiamo la controprova che il sistema Juve nonostante alle volte non si faccia proprio sentire forte 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 sotto sotto c'è sempre questa qui potrebbe essere la chiara e netta dimostrazione anche perché per quanto riguardi il caso di Juve-Napoli insomma tutte le squadre hanno firmato il protocollo UEFA se adesso la UEFA me la va a rinviare si capisce che bene o male qualcosina sotto c'è poi però appunto passano due giorni e la commissione disciplinare UEFA ha preso in considerazione la partita annullata tra Romania e Norvegia e ha deciso che la Norvegia perderà la partita 3-0 a tavolino quindi alla fine tutto mondo a grandi linee e paese anche se effettivamente pare che la Norvegia abbia accettato quello che è il regolamento perché come dice Mastro Agnelli se il protocollo è chiaro il protocollo è chiaro e la Norvegia proprio per antonomasia è un popolo che il regolamento e il protocollo lo rispetta l'abbiamo violato? Non ci siamo presentati? e il protocollo vede 3-0 a tavolino di 3-0 a tavolino loro lo accettano gli imparziali un pochino meno e come nota finale mi sembra comunque giusto farvi vedere quello che è stato poi l'articolo del napolista che loro ci sta che non siano imparziali però insomma poi dipende anche che cosa scrivi come lo scrivi ma questo comunque rimane sempre un altro paio di maniche che una volta presa la notizia del 3-0 a tavolino col 3-0 alla Norvegia la UEFA ricordi serenissimi a San Marco è il caso che qualcuno intervenga la sconfitta a tavolino infischiandosene governo norvegese e l'autoproclamazione del calcio come potente sovranazionale a Venezia intervengono i ricarabinieri però alla fine di purtroppo è così poi come sempre lo ribadisco è così tutti felici e tutti contenti voi siete dalla parte della ragione la Juventus continua ad essere il potere il palazzo ed è stato deciso di dare il 3-0 a tavolino alla Juventus solo perché voi siete vittime del sistema così tutti quanti a posto però poi come si può vedere i casi analoghi finiscono nello stesso identico modo ma va benissimo così è giusto che comunque qualcuno intervenga detto ciò ragazzuoli dato che con questo video siamo tornati proprio carichi pronti ad affrontare di nuovo gli anti-Juventini in questo mese io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine Forza Juve 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 Grazie a tutti.